Musica Buonasera a tutti, buonasera dal TG Prato. Cominciamo con la cronaca inchiesta sull'immigrazione clandestina tra i 20 indagati, un commercialista e due consulenti del lavoro pratesi. In due anni di indagini la Guardia di Finanza ha ascoltato più di 200.000 conversazioni telefoniche ed esaminato più di 80.000 buste paga false elaborate per gli operai di un migliaio di aziende cinesi. 200.000 conversazioni telefoniche intercettate e ascoltate in due anni di indagine, 80.000 buste paga false, mille aziende cinesi coinvolte in un intricato sistema di illegalità che consentiva, attraverso la complicità di studi professionali italiani, il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini cinesi. Un'evasione contributiva di almeno 10 milioni, altrettanto e forse più l'ammontare dell'evasione fiscale, è il risultato dell'operazione denominata Fantasma, imponente lavoro investigativo della Guardia di Finanza di Prato, coordinato dal sostituto procuratore Canovai. 20 le persone indagate, un commercialista e due consulenti del lavoro e 17 imprenditori cinesi. Le ipotesi di reato, favoreggiamento della permanenza di cittadini irregolari in Italia e predisposizione di falsa documentazione contabile non al fine del rilascio del rinnovo del documento di soggiorno. Le indagini estese in Toscana, Campania, Veneto, Piemonte e Umbria e alle quali hanno partecipato 200 finanzieri provenienti anche da altri comandi della Toscana, hanno confermato l'esistenza di quello che il procuratore Antonio Sangermano ha definito il sistema Prato. La Guardia di Finanza parla di consigli furbetti. Dopo due anni di accertamenti, che peraltro proseguono ancora, abbiamo individuato in Prato tre professionisti i quali si adoperavano per fornire i cosiddetti consigli. Lo scenario che ne è venuto fuori è uno scenario piuttosto inquitante, fatto di buste paga false, fatto di prestanomi. Tutto questo che alimentava un circolo vizioso di evasione fiscale e contributiva molto imponente. L'operazione della Guardia di Finanza aggiunge un tassello al sistema Prato che comprende inchieste come quelle sulle false residenze ai cinesi e sulle intestazioni formali delle ditte. Avevamo affrontato a suo tempo il problema del contrabbando intraspettivo di tessuti, successivamente la fase dell'esportazione fraudolenta di valori. Rimaneva la parte centrale, quella relativa al Consiglio Furbetto. Il comune denominatore è l'integrazione perfetta di figure che per il ruolo che rivestono riescono a dar vita a un fitto sistema di illeciti. Armato di taglierino ha rapinato l'ufficio postale di via Borgioli a Prato. È successo intorno alle 14 di oggi. Secondo quanto ha preso un uomo con il volto parzialmente coperto da un cappellino ha fatto irruzione all'interno e impugnando un taglierino si sarebbe fatto consegnare dalle cassiere alcune migliaia di euro. Poi è fuggito via probabilmente con l'aiuto di un complice che faceva da palo. Sul posto è arrivata la polizia che ha ascoltato le persone presenti al momento del fatto e anche i dipendenti. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne, il bottino è da quantificare. Questa non è la prima rapina per le poste di via Luigi Borgioli. L'ultimo episodio risale a fine maggio. Fruttò 23 mila euro. Una cinese di 41 anni è stata arrestata dai carabinieri di Prato nell'ambito di un controllo interforse. La sua azienda è risultata completamente a nero, ospitata nella garage dell'appartamento della stessa donna che è accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violazioni delle normative sulla sicurezza e sull'uso degli immobili. Sedie, specchi, lavatesta con poltrona e tutti i prodotti necessari al lavoro di un parrucchiere. È quanto ha scoperto la polizia municipale in una stanza al primo piano di un terratetto in via Chiesa nel Macrolotto Zero. L'attività abusiva era gestita da una cinese di 51 anni a cui sono stati contestati due verbali di violazioni amministrative per una sanzione totale di oltre 2.500 euro. Le attrezzature utilizzate sono state sequestrate. Cambiamo argomento, lasciamo la cronaca. Prato, un centro di ricerca meccanico all'avanguardia che annovera clienti blasonati. Un'esperienza di lavoro particolare. Ve la racconta Eleonora Barbieri.